Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, possibile svolta per un episodio che si era verificato lo scorso 8 agosto al confine tra le province di Firenze e Arezzo in Valdarno. Un uomo di 86 anni aveva perso la vita lungo la strada provinciale 87 in seguito ad un incidente. Si era ipotizzato un malore alla guida ma nelle ultime ore gli inquirenti avrebbero rintracciato un furgone che in base alle indagini potrebbe essere stato coinvolto proprio nell'incidente in cui ha perso la vita l'86enne. Si trovava ai domiciliari accusato di perseguitare la ragazza con cui aveva avuto una relazione e continuava ad inviarle messaggi ossessivi. Per questo un 34enne è stato portato in carcere. L'uomo ha visto inaspirsi la misura cautelare a suo carico accusato di stalking e lesioni volontarie e personali nei confronti della vittima non avrebbe cambiato condotta continuando ad inviare in maniera ossessiva messaggi all'ex fidanzata. L'uomo adesso si trova in carcere. Ultimo fine settimana di agosto da Bollino Rosso e allora ci sono tutte le raccomandazioni di Anas e ovviamente le principali arterie tenute sott'occhio. Una su tutte l'autostrada del sole. Terzo fine settimana di agosto da Bollino Rosso all'insegna degli spostamenti e dei primi rientri verso le grandi città. Sotto la lente per il costante aumento dei flussi di traffico in vista dei primi rientri la rete autostradale per il territorio aretino l'autostrada del sole. In previsione dell'aumento del traffico Anas presidierà la rete per mantenere fluida la circolazione con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento e la massima riduzione del numero dei cantieri attivi lungo la rete. Tre su quattro sono stati fermati fino al primo weekend di settembre. Per la situazione dei cantieri inammovibili Anas invita tutti a consultare prima di partire il sito stradeanas.it. Il Bollino Rosso sarà fino a tutta la giornata di domenica 20 agosto. Gli spostamenti in crescita saranno ovviamente verso le grandi città. Dalle 8 alle 16 di sabato 19 e dalle 7 alle 22 di domenica 20 sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti. E proprio in queste ore, in queste settimane in cui indubbiamente gli italiani si sono messi di più in viaggio abbiamo anche assistito ad un aumento, secondo le associazioni dei consumatori per certi versi ingiustificato, dei carburanti. La benzina ha sforato, quota 2 euro al litro per il servito, ma insomma anche per il fai-da-te non va molto meglio. E così il Codacons è intervenuto anche in Toscana proprio sul caro carburanti. Ha chiesto alla magistratura con un esposto a 104 procure della Repubblica di intervenire sui rincari proprio di questo ultimo periodo, aprendo un'indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di reato di agiotaggio. Non è accettabile, dice l'associazione, fare cassa con i rincari spaventosi sulla benzina nel mezzo dell'estate. Chiediamo alla magistratura di intervenire. Un'altra emergenza estiva è quella della mancanza di sangue e allora ne abbiamo parlato con l'Avis. L'emergenza sangue è diciamo ai livelli di ogni estate. Quando fisiologicamente le persone partono si recano nei luoghi di vacanza e tendenzialmente con minor frequenza si recano nei centri trasfusionali. Come ogni estate torna puntuale la mancanza di sangue e allora arriva l'appello da parte dell'Avis. La donazione, questo è lo slogan, non va in vacanza. Manca soprattutto lo zero che è sostanzialmente il gruppo del donatore definito universale che può donare sangue a tutti. È un gruppo particolarmente prezioso che diciamo cerchiamo di gestire al meglio. In questo momento siamo in carenza di gruppo zero per cui tutti coloro che abbiano questo gruppo e magari non siano donatori regolari possono magari farci un pensiero. Però siamo curiosi di vedere i risultati di quello che è stato fatto quest'anno dove sono state attivate delle campagne di sensibilizzazione anche in Versilia ad esempio negli stabilimenti balneari. E poi possiamo ricordare ai nostri donatori che si trovassero nei luoghi di villeggiatura che si anche fanno parte di un'associazione di donatori di luoghi dell'entroterra. Qualora si trovassero per villeggiatura in zona in cui è presente un centro trasfusionale possono anche tranquillamente andare a donare nel luogo di vacanza. E scaricando la app Avis Toscana si può monitorare la situazione e capire il centro trasfusionale più vicino a dove ci si trova. Ci sono le informazioni riguardo alla sede Avis più vicina, come diventare donatori e c'è anche una sezione chiamata Meteo del Sangue nella quale si vede lo Stato ha aggiornato di necessità rispetto ai vari gruppi sanguigni. Ci ha lasciato in queste ore Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato della Piaggio, un illuminato imprenditore che mancherà non solo alla sua famiglia ma anche ai tanti che ne hanno conosciuto le indiscusse capacità di visione e leadership. Così il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha dato notizia e commentato appunto la scomparsa all'età di 80 anni dell'imprenditore tra le figure di primissimo piano del mondo dell'industria italiana. Il suo nome è legato alla Toscana, ha detto Gianni, in particolare a Pontedero ovviamente per l'acquisizione della Piaggio di cui era tuttora presidente. E adesso invece parliamo di una vera e propria anteprima, immagini che appunto ancora non sono state diffuse, parliamo del progetto che consentirà la riproduzione dell'esperimento del pendolo di Foucault a Brescia. Protagonista sarà un aretino, vediamo chi nel prossimo servizio. L'università ha dato un suggerimento a Brescia, capitale italiana della cultura, di fare il pendolo di Foucault come esperienza di fisica a livello proprio conosciuto, a livello anche mondiale, nella cattedrale di Brescia. Sarà l'aretino Fausto Casi, presidente del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo e tanto altro, a realizzare l'esperimento scientifico del pendolo di Foucault nella cattedrale di Brescia, città della cultura 2023, assieme a Bergamo. Un esperimento, il pendolo di Foucault come tutti sanno, è lo strumento che riproduce il moto della terra che Casi attuò nel 2006 nella cattedrale aretina in occasione proprio dell'inaugurazione del MUMEC. Nel dicembre 2006 abbiamo voluto ricordare il primo anniversario dell'apertura di questo museo che è stato aperto a dicembre del 2005. Nel dicembre 2006 abbiamo realizzato questa grande esperienza che è scientifica ma che è anche umana, voglio dire, perché ha dato a una dimostrazione intanto della serietà professionale e scientifica del nostro museo che è in grado di fare cose che tanti altri non hanno neanche provato a fare perché in Italia sono stati fatti 4-5 esperimenti dal 1851 quando Léon Foucault l'ha fatta al Pantheon a Parigi. E devo dire che sono state fatte a Roma, due volte a Firenze, altre volte un'altra volta a Padova, ma mai nessuno l'aveva fatta. Noi siamo entrati negli annali delle prove del pendolo di Foucault come esperienza scientifica. Stavolta però la cattedrale ha altezze ben più importanti, una bella sfida dunque per casi che dà lustro anche alla città di Arezzo. Quando si è stabilito che l'esperimento si doveva fare nella cattedrale nuova, si chiama il Duomo Nuovo di Brescia, che sono andata a vedere un sopralluogo, è alto 65 metri. Quindi praticamente l'unica possibilità di attacco era in cima a una cupola tipo Brunelleschi, quella di Firenze, che in cima alla cupola c'è un lucernario, in questo lucernario che è di 4,50 metri di diametro, metterci un ponte a croce, cioè ricreare praticamente una sospensione, un qualche cosa, un pavimento praticamente, sul quale attaccare le mie apparecchiature su questo pavimento in modo che si possa mettere il filo attaccato in un meccanismo che io ho realizzato già 17 anni fa e ha funzionato, con questo meccanismo il filo attaccato lì che va a percorrere 65 metri fino a terra. Per cui è la città di Arezzo che sposta il suo pacchetto culturale, lo porta con orgoglio in questa grande città di Bresciana e che noi faremo questo esperimento alla presenza di tutti i bresciani che vogliono. La macchina organizzativa per la prossima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 3 settembre alle 17 in Piazza Grande, già in movimento dalla prossima settimana, saranno infatti molteplici gli appuntamenti che ovviamente scandiranno la marcia verso questa 144esima edizione. Uno su tutti, in programma per sabato 26 agosto, le visite di doneità previste dal protocollo per la tutela e il benessere del cavallo che saranno eseguite dal veterinario della Giostra Roberto Gottarelli. Intanto c'è già la notizia sul fronte dei controlli antidoping già effettuati, hanno dato tutti esito negativo. Adesso invece con il prossimo servizio ci spostiamo a Cortona. Ieri vi abbiamo raccontato appunto della inaugurazione di Cortona Antiquaria, l'edizione è la numero 61 e oggi entriamo un po' più nel vivo di questa importante mostra. Una Madonna bellissima. Si tratta di una Madonna del 1100, zona Umbria-Alto Lazio, è molto rara. Opere provenienti dall'Italia e dal mondo a testimoniare la molteplicità di gusti, scuole, mode e percorsi creativi. L'edizione numero 61 di Cortona Antiquaria sarà aperta fino al 3 di settembre. Tante le curiosità e i pezzi rari in mostra. Quest'anno abbiamo un antiquario di Firenze che è un figlio d'arte perché la madre pure si occupava di antiquariato e soprattutto aveva un negozio di una bellissima e famosissima galleria di merletti, di pizzi, ma cose serviva alle case reali. Ha portato veramente delle cose eccezionali, molto belle, un bellissimo cassettone delle botteghe granducali fiorentine, probabilmente dell'ebanista Van der Wiener che era un ebanista olandese che lavora per i granduchi di Toscana. Quindi credo sia l'oggetto più bello che ci sia oggi in mostra. Questo è un cassettone fiorentino, botteghe granducali, primo quarto del Settecento, intarsiato in ebano, pero ed altre essenze, in radica chiaramente. I bronzi sono ripresi da un suo cassettone gemello, diciamo, gemello differente solamente nei montanti. Questi cassettoni si pensano fossero stati alla Villa La Quiete, a Montalto. La maniera è quella di Van der Wiener che era un ebanista del granducale fiorentino. Qui oggi si vince se c'è qualità. Noi abbiamo avuto sempre una commissione di esperti. Hanno visionato tutti gli oggetti, tutte le mostre, segnalando quelle cose che non erano consone alla nostra mostra e che noi abbiamo provveduto o a cambiare le attribuzioni, o a cambiare l'epoca, o addirittura allevare. Quindi i visitatori e gli eventuali compratori possono comprare con una certa sicurezza, perché a prescindere dalle garanzie che può dare l'antiquario, e sono tutte cose che sono state visionate. Con il prossimo servizio rimaniamo a Cortona, perché coloro che appunto visiteranno la città etrusca potranno godere anche dell'edizione 2023 di Cortona On The Move fino al prossimo primo di ottobre. Le mostre declinano quest'anno il tema di More Or Less, un tema che affronta la contrapposizione tra scarsità e abbondanza, esplorandolo sotto tanti punti di vista e sotto tanti sguardi. Ad interpretare la dicotomia tra più e meno per la tredicesima edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia, 30 artisti per 26 mostre, tra il centro storico, la Fortezza del Girifalco e la stazione C di Camucia. All'interno della Fortezza del Girifalco la mostra Standing Still del grande maestro Massimo Vitali. La mostra presentata per la prima volta nella sua interezza, a Cortona il caso Africo dall'archivio Publifoto di Intesa San Paolo e poi per afforzare ancora di più il legame con il territorio una collaborazione con Autolinee Toscane che mette a disposizione un autobus su cui ospitare la mostra del fotografo italiano Marco Garofalo incentrata sulle periferie e sulla musica trap come riscatto sociale. Anche una mostra di Fausto Podavini in collaborazione con Medici Senza Frontiere per raccontare il cambiamento climatico. Tra i nomi della fotografia internazionale che partecipano a questa edizione Larry Fink, il re statunitense del bianco e nero. Un fotografo americano straordinario, ultraottantenne, il quale ha documentato nella sua lunghissima carriera dai grandi del jazz fino ai beatniks e in questa mostra in particolare è una mostra perfetta per More or Less. Larry fotografa le feste, le feste VIP degli Oscar che aveva fatto per tutti gli anni 90 per Vanity Fair dove in qualche maniera è veramente una fiera delle vanità non sono quelle persone famosissime che riconosciamo nelle foto che lui fotografa, sono degli attori di questa fiera delle vanità e questo è messo in contrapposizione con una famiglia che sono vicini di Larry Fink nella Pensilvania rurale che è una famiglia particolarmente povera e la contrapposizione nella maniera in cui Larry li fotografa e ce li porta a far vedere a Cortona è veramente il nucleo focus di questa mostra. E siamo allo sport, iniziamo subito con la bella notizia di Beatrice Coradeschi che conquista una medaglia d'argento e poi invece il gradino più alto del podio assieme ai suoi compagni nella Corea del Sud. Il servizio. Un'altra medaglia per l'atleta retina Beatrice Coradeschi classe 2007 originaria di Civitella in Val di Chiana è riuscita ad aggiudicarsi un argento ai mondiali che si sono svolti in Corea del Sud a cui ha partecipato la nazionale italiana di Taekwondo. Sono stati 7.499 i punti totalizzati da Beatrice appena 67 in meno della prima classificata atleta di casa. Tutta colpa, secondo gli esperti della disciplina del freestyle di Taekwondo di un avvitamento non riuscito. Ma importa poco, è sicuramente giusto sorridere davanti ad una medaglia d'argento conquistata così. Beatrice poi, assieme a tutto il team Italia nella categoria Under 17 è salita sul gradino più alto del podio. Parlando invece di Arezzo ci sono due cose da, diciamo così, sottolineare. La prima è indubbiamente la quota degli abbonamenti che ormai ha superato 1.200 e la seconda è quella che riguarda invece i lavori allo stadio. Sentiamo. Sì, sì, infatti guardavo i numeri stamattina e sono soddisfacenti perché si è ripresato un ritmo che si era un po' rallentato giustamente per le festività di agosto e stamattina quando ho rivisto i numeri si è toccato quota 1.200 quindi diciamo sotto i 1.500 manca poco che è l'entry level per quanto riguarda la quota abbonati. Abbiamo rifatto le panchine come anticipato l'altra volta le panchine, skybox, rifatte le voltroncine nella VIP abbiamo fatto un po' di lavoro di restyling così come abbiamo rivisto e riorganizzato quello che è il settore invalidi sappiamo che erano in una zona un po' angusta dello stadio ma più che angusta erano in una situazione un po' particolare quindi soggetti ad intemperie e non certo in una posizione comoda. Abbiamo risistemato quelle che erano le vecchie panchine per gli invalidi e quindi gli abbiamo dato una sistemazione più idonea a quella precedente. ne abbiamo già credo sistemato il tutto manca poco ma per il suo campionato sarà sicuramente tutto pronto. Ed infine parliamo di ciclismo perché si annuncia un Giro del Casentino davvero di alto livello quello in programma domani con partenza da Corsalone alle 13.30 e arrivo sempre nella località casentinese alle 17.30 una corsa lunga 106 edizioni la più antica d'Italia un albodoro immenso con Gino Bartali Fausto Coppi e Gastone Nencini sarà presente come ogni anno la figlia Elisabetta appunto di Nencini tra i principali corridori al Via Ambrosini vincitore del prestigioso Gran Premio Capodarco tra gli aretini invece Francesco Della Lunga in gara anche il team aretino Rosini guidato da Franco Chioccioli vincitore del Giro d'Italia nel 1991 è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti